Sono canzoni che uno dice poetica, in realtà è molto tragica, questo è il femminicidio, no? Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera e il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella perché era talmente sola questa ragazza che lì ha dovuto intervenire il vento pensate quanto è commovente sto fatto, che il vento era l'unico che l'ha vista là così perché per tutti gli altri lei era una che non si sa come a un certo punto nel fiume scivolavi non si sa come nel fiume scivolavi perché in realtà colui che fa questo femminicidio, lui dice ma un re senza corona e senza scorta bussò cent'anni ancora alla tua porta Cosa significa bussare alla porta? È una violenza carnale, bussare alla porta è la metafora della penetrazione e vuol dire che questa cosa succederà ancora, si ripeterà cent'anni ancora alla tua porta non ti volle credere morta? Lo rifarà la storia ed è una cosa tremenda pensare a questo noi dobbiamo opporci a questo tipo di omertà Grazie perché queste riletture sono importanti perché uno magari la canta e non sa il significato con il quale De Andrè la scriveva Grazie 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 Grazie